bene ragazzi a tutti nel comendone Venezianus un giocatore che ve l'ho già spoilerato dal titolo che fecero fatta finalmente è arrivato nella squadra dopo due anni di foot adesso facciamo vedere un po' la squadra nuova apriamo i premi della weekend league, come al solito 16 vittorie non riesco ad arrivare 17 che oro 2 purtroppo questa è la mia realtà anche se la squadra è forte mi incazzo troppo probabilmente non sono lì però quello che mi dà fastidio è che non sono forte questa squadra potrei fare di più però ci sono quelle 3-4 partite che perdo con la consapevolezza che ho fatto di 102 tiri a 0 cioè io secondo me le mie mani hanno 18 vittorie massimo non voglio dire di più, però almeno 18 ci sono però devo dimostrarlo sul campo e mi fermo sempre a 16 quindi alla fine è così allora vediamo un attimo Ederson intanto rimane in porta anche se adesso diciamo le acquistiche posso fare con i soldi che ho o migliorare il portiere e prendere De Gea o vedere se vendendo un altro giocatore adesso facciamo vedere posso prendere la versione comunque questo qua ha fatto 406 partite con me quindi l'ho trovato quindi il primo proprietario quindi comunque mi sta dando buone soddisfazioni anche se c'è di meglio dopo abbiamo Walker che ho sostituito Valencia con Walker e devo dire che insomma sta andando abbastanza bene 206 partite nel club quindi non poche sto giocando abbastanza veramente metto la sera c'è otra division rivals weekend league me la godo abbastanza e qualche squad battle però va bene insomma quelle sono più pallose a livello singolo ha fatto comunque solo un gol e 5 assist e 6 cartellini gialli però insomma è un terzino così comunque i terzini li tengo bassi non li faccio salire non posso pretendere grandi cose poi abbiamo Eric Bailey in forma che l'ho sostituito a quello normale a 127 partite 0 gol un assist e un cartellino giallo comunque mi sto trovando bene io lo consiglio questo uomo è veramente baggato cioè oltre il pene grande gioca anche bene poi abbiamo eccolo qua Virgilone Bandai che vediamo se riusciamo a prendere la versione in forma adesso vediamo con i soldi come siamo messi sono questi i ragionamenti che posso fare per il momento altre icons non le posso prendere adesso spacchetterò con gennaio con l'escorso di Toti e vedremo un po' là comunque 261 partite 4 gol e 3 assist e 11 cartellini giallo vabbè io sono un po' pazzo ragazzi quindi sta comunque questo qua assolutamente per chi fa la premia deve prendere assolutamente già la versione base è forte penso che l'in forma non sia ancora di più poi abbiamo Mendy veramente giocatore affidabile di più 445 partite ha fatto con lui terzino a sinistro te lo godi a cannone ha fatto anche 4 gol e 5 assist 20 cartellini addirittura un rosso anche un rosso per il buon Mendy poi abbiamo Paulino Pogue questa è la new entry è un'altra new entry c'è da guardare un partito 31 gol 39 assist cioè non mi lamento 2 cartellini gialli molto forte è l'unico cartellizzatore perché volevo migliorare i passaggi tanto visto che nel mio modo di giocare ecco visto che voglio fare tanti passaggi anche in maniera molto frenetica ho bisogno di passaggi di un miglioramento nei passaggi piuttosto che il tiro vabbè qua abbiamo il drogato della squadra Kanté veramente è un giocatore insostituibile è fede a comprare anche se fate la Liga Santander cioè Kanté non può mancare secondo me 406 partite quindi è uno degli inamovibili 10 gol anche 21 assist solo 17 cartellini gialli e poi abbiamo Kevin De Bruyne anche questo inamovibile 431 partite 151 gol 164 assist 10 cartellini gialli quindi un bel mignottone poi abbiamo Marez che ho provato Sarafio e non mi trovo vado molto meglio con Marez cioè so che sono un pazzo scatenato ma abbiamo la versione normale di Marez anche qua potremmo provare a vedere di prendere quella in forma ci decidiamo un attimo però un acquisto la vorrei fare con voi 82 partite 28 gol 30 assist non sono statistiche incredibili io lo so non sono un fenomeno quindi è chiaro che sicuramente voi avete 82 gol 82 assist 82 partite eccolo qua e poi signori e signori eccolo qua questo lo so questo Fio lo uso perché esceva 82 partite 81 gol cioè questo è veramente una bestia 35 assist e 0 cartellini Fio io chiaramente lo amo quindi c'è con un Sheva mi troverei bene anche se al posto di 91 tipo a 56 per cui io sono fatto così cioè Sheva è il mio idolo quindi lo consiglio a chiunque però veramente c'è 82 gol 82 presenze e 81 assist non è proprio scarso poi abbiamo Edenone Hazard molto bene 116 partite 32 gol 25 assist come potete vedere è Sheva che fa tutti i gol loro mi servono per gli assist con De Bruy che fa un po' tutte e due le cose però ecco questa insomma è la squadra eccola qua però sto spostando questo modulo mi sto trovando male però ancora io vorrei giocare con le due punte però voglio una seconda punta un'icona che sia all'altezza cioè non so non sarebbe Ronaldo ma è impossibile per Ronaldo potrei prendere anche la versione baby che è fenomenale il fenomeno chiaramente vedremo questa è la squadra allora andiamo a riscattare i premi cerchiamo di scurare cazzo sempre ero 3 purtroppo sono una pippa 16 vittorie 15 o 16 vittorie è pazzesco è pazzesco ok 30.000 credit che non fanno male adesso vediamo regalami su Alex me lo merito me lo merito mamma mia raga prendiamo bell'arabi però ragazzi che due maroni sono sicuro dammi un bestione dammi anche manè cazzo niente ne andava niente prendiamo sarabia che sfiga però porca puttana siamo veramente sfigati sì ho capito messaggio di fifa sì perché è stato lì probabilmente un blackout di tutto abbiamo tre pacchetti perché abbiamo anche costruito delle rose vediamo ste rose che cazzo di maglie sono ma tutte uguali praticamente belle mamma mia sono quasi emozionato vai facciamo una sculatina dai una sculatina yuhu bene attenzione porca puttana dai eccolo qua cristiano ronaldo no as uh sare bene questo è un bel colpo di culo questo è un bel colpaccio cazzo potrei anche provarlo però azarde è più forte secondo me quanto vale il porco 103 no che spoccio 120 90 contando che voglio comprare giocatori nuovi e ho già azarde vediamo se a 105 lo vendo bella se è sculata quanto godo quanto godo va a fa' al culo finalmente cioè per me è una sculata troppo è chiaro che per che per i pro no non vedo 109 107 105 non vedo nessuno buono è già il secondo Sanè che trovo ciao tanto bello ok quanto vale ah un cazzo la ritengo questi questi ritengo eh questo non vale un cazzo 10 cazzo 1 e 1 ah ma mia ragazzi guarda 9 e 50 cazzo però vabbè un walk out così me lo godo comunque eh e il resto teniamo tutto dopo un altro vuole dura facciamo così vai cazzo se voleva Ronaldo però eh troppo bello per essere vero se England è di bello sancio pazza non deve andare meglio questa deve andare meglio deve andare meglio oh meno male che ho forme fisiche questo è importante ciao 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 questi ritengo perché mi sto facendo un po' no 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 che cazzo ma porca puttana scusate sono i vaneggi del cubo ehm no dicevo adesso più che altro ho visto che i pacchetti Champions League facciano un casino ho trovato qualcosa di buono niente di eccezionale però teniamo tutto ok dai regalami il The Dream regalami non so quanto vorrei trovare un'icona porca puttana poca attenzione 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 stiamo scurando bene Croesha CC Rai Madrid RITMOD madonna ragazzi parapapà parapapà lucone non vale un cazzo pagodo quanto va il lucone 90 50 70 porca puttana puttana miseria 134 110 106 104 102 100 dove cazzarlo a 99 molto bene 200 di profit così godo godo ok bello queste sono le cose più belle le forme fisiche così non spendo più un K perché ho speso 10 K per prendere un po' di forme ma stava abbastanza sui maroni scartiamo ciao ok 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 baby se ne è venduto adesso raga potrei provare a prendere ciò non lo so ragazzi a sto punto o mi tengo a stagio squadra accumulo a cuore dopo cerco di comprare qualcosa cioè vediamo per esempio Ronaldo comunque è 90 vediamo quant'è eh ciao sopra i 2 milioni non lo prenderò mai è ufficiale è ufficiale se voglio fare perché voglio fare giocare con le due punte mi piace di più sinceramente cioè vediamo come prezzo massimo un milione chi potrebbe portarmi a casa di forte ma Michele 81 ma non è che vedo tutti sti fenomeni eh rude 90 l'ho provato buono però c'ho Michele Michele però eh Rivaldo mi piace tanto cazzo Rivaldo è vero che ha solo un piede però io amo Rivaldone il piede debole non ce l'ha chiaramente lo sappiamo probabilmente è un accacciatore secondo me eh io sono veramente cioè Ronaldo è un giocatore che cioè Rivaldo è un giocatore che ho sempre amato al Barcellona poi quanto ho avuto al Milan non speravo tanto in grandi prestazioni purtroppo è arrivato a fine carriera però è stato una Champions se l'ha vinta sono un po' indeciso raga c'è anche Van Boston Van Boston l'ho provato fortissimo però non fa la differenza non è che più che altro devi saperlo usare perfettamente per poter giocare con giocatori così e se sei scarso come il Cume hai vinto i giocatori comunque un po' veloci sono giocatori che amo tanto e quindi mi diverto Van Boston è chiaro che lo amo però c'è Van Boston serve il Prime secondo me senza Prime non fai molto vabbè questi sono i giocatori comunque raga a sto punto a sto punto voglio il vostro consiglio mi consigliate e nel prossimo video facciamo in questa weekend league andiamo con questa comunque insomma mi ha permesso di fare 16 vittorie e non comprare diciamo non fare l'aggiornamento a Van Dijk if e Marets if e tenere i credit e puntare a un'icona che magari potrei prendere anche figo anche figo ad che figo intermedio diciamo se non mi ricordo qual è aspetta andiamo un attimo figo 90 terra no aspetta beh mi si da un milione ecco magari accumulare ancora due tre weekend league e dopo chiaramente vendendo qualcosa con un po' di compravendita prendere figo o fare le due punte e prendere una punta diciamo di azzardi da 400 mil no non mi ricordo quanto però comunque fai un bel po' di soldi contropagato l'hazard aspetta l'hazard beh 3x comunque un 300 ci vuole a k te li fai e vieni a chiamarezza e fai l'attacco a due e magari prova a fare la coppetta che quanto costa van boston prime e dopo guardiamo anche van dyke van boston dai il nostro cigno di utrek c'è un 93 beh 1.3 fine azione 97 resistente al 72 non è molto resistente la fotte sega mi ispira e i due idoli però comunque devo aspettare 1.39 costa devo fare ancora un milione di la versione if ciò che spoglie costa 300 2.9 2.80 non è poco non è poco 2.80 non è poco raga aspetto consigli da parte vostra devo dire che è andata molto bene sono molto soddisfatto del pack opening abbiamo trovato veramente due bei giocatori hanno fatto 200k di profit siamo sfortunati vi faccio vedere l'ultima cosa vi faccio vedere che ho trovato finora diciamo c'è Shezny Sarabia Tessino abbiamo trovato lì champion Miranda champion Barclay Pandelf Duffy cioè quindi non proprio dei fenomeni ecco però accontentiamoci siamo rifatti diciamo con i pacchi dell'oro 3 che abbiamo venduto forse anche Lucone ok perfetto buono raga quindi aspetto consigli su cosa fare se aspettare e comprare magari un'icona o Figo o Van Basten cioè tenere con Figo teniamo questo modulo con Van Basten ritorniamo alle due punte o se invece aggiornare la prossima weekend league magari con Van Dijk If e Marez If raga un saluto dal cumendone veneziano alla prossima ciao